I carabinieri di Barbarano stanno indagando su una rapina avvenuta giovedì sera a Pozzolo di Villaga. Un sessantenne ha raccontato infatti ai militari dell'arma di essere uscito per portare fuori i rifiuti e di essersi trovato in casa il ladro quando è rientrato nella sua abitazione. I banditi, un uomo e una donna, ha raccontato, lo hanno spintonato facendolo cadere e si sono dati alla fuga su un'auto. Sarebbero riusciti da una rapida verifica a portare via alcuni gioielli per un valore di circa 1000 euro. Sono ora in corso le indagini per individuare la coppia di malviventi autori della rapina impropria che hanno agito a volto nascosto.